Salve a tutti, mi presento, sono Caterina d'Aragona, moglie di Enrico VIII e quindi regina d'Inghilterra. Ex? Non proprio! Vedete ad un certo punto della nostra bellissima, meravigliosa, unica storia d'amore? Scopro che mio marito fa il donaiolo con le altre manciulle del regno! Ehi, ma io dico, si può davvero fare tutto questo alla propria moglie? E io che gli sono sempre stata vicina e non il momento! Ah, e volete sapere un'altra cosa? Ah sì, mi ha deciso di annullare il matrimonio e togliermi la corona! Sietevi così sbagliate che io proprio non capisco! No! 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 No!